bene amici di telefono.net stiamo girando questo video con xperia s di sony c'è lo zoom ovviamente digitale torniamo indietro questo è un video che stiamo girando a 720p per farvi capire le potenzialità non è un video che stiamo girando con un'unità definitiva quindi le prestazioni potranno anche aumentare ovviamente presente il fuoco continuo e adesso proviamo a fare un video anche a 1080p